Il treno dei bambini è tornato in Vaticano portando da Papa Francesco i piccoli abitanti di Norcia, Cascia, Cumoli, Amatrice, Arquata del Tronto e Acqua Santa, che dopo i terremoti degli scorsi mesi hanno perso il paese, le loro case e alcuni anche i loro cari. L'iniziativa promossa dal Cortile dei Gentili in collaborazione con Ferrovie dello Stato italiane si ripete ogni anno dal 2013 per regalare ai bambini meno fortunati una giornata per curare le ferite e alleviare le angosce. Ad accoglierli nella stazione Vaticana hanno trovato i coetanei dell'associazione di sport senza frontiere e dell'orchestra Maredo Magna, i cui musicisti provengono da una favela di Rio de Janeiro. Poi i bambini davanti all'aula Paolo VI hanno incontrato Papa Francesco e insieme a lui hanno lasciato volare in aria dei palloncini bianchi, in ricordo delle vittime del sisma. Al Papa i piccoli viaggiatori hanno consegnato un messaggio importante, non potremo mai impedire le catastrofi, ma molto possiamo fare per rispondere al pericolo in maniera efficace, innanzitutto prendendoci cura del nostro ambiente e ascoltando il grido della terra. Lo hanno fatto donando a Francesco disegni e pensieri, frutto della pedagogia dedicata alla calamità e portata avanti in questi mesi nelle loro scuole. Poi il Papa ha chiesto ad alcuni bambini di raccontare la loro esperienza, ne è uscito un lungo dialogo, ecco la conclusione. Sono Maria Vittorio e vengo da Cascia. Volevo dire che dopo il terremoto ci sono stati molti problemi. Prima siamo stati in un'azienda, poi ci hanno dato una struttura in legno. Ci farebbe piacere che tu venissi a Cascia uno di questi giorni. Io ho sentito voi vi dire una parola. Questo che voi avete vissuto è una cosa brutta perché è una calamità. È vero o no? È una calamità. Le calamità feriscono l'anima, ma il Signore ci aiuta a riprendersi. Avete fiducia nel Signore voi o no? Sì! Sicuro? Sì! E anche la Madonna? Sì! E adesso come stiamo tutti così? Se abbiamo fiducia? Ringraziamo la Madonna per le cose buone che ci ha dato in questa calamità. Ringrazio 23 Ringrazio 24 Grazie a tutti